Buonasera, come state? Oggi è stato un giorno lungo, sì, un po' lungo, perché la mia assistante è donna e in vacanza, quindi devo lavorare da solo sulla mia galleria, sì, e sono stanco è un po' difficile completare i miei studi italiani, sì, ma stamattina ho fatto un piano, sì, e ho completato il minimo per oggi, quindi posso dire ok, e vai, yay, sarà, sarà bene, dona torna al lavoro mercoledì prossimo e sarò molto felice stasera guarderò Grace e Frankie su Netflix sarà rilassante Buonasera, ciao ciao Grazie a tutti